nella mail in cui selezionerai i menù da te presceliti ci sarà un box note in cui potrai inserire tutte le informazioni che secondo te per noi è importante sapere tra cui anche il fatto che probabilmente arriverà in ritardo se dovesse esserci qualsiasi imprevisto potrai sempre contattarci via mail o via whatsapp assolutamente sì ogni prenotazione corrisponde ad un tavolo